Adriano Pantaleo. Ciao Adriano, buonasera a te. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti voi. Insomma, sono felicissimo di essere, anche se telefonicamente, in collegamento con voi e con i vostri radioascoltatori. Prima di parlare ti dobbiamo portare la zuppa di latte nel letto? Assolutamente sì, altrimenti non mi alzo e non parlo neanche. Adriano, il grande pubblico naturalmente ti conosce per tantissimi ruoli che hai interpretato nel corso della tua carriera. Tu sei un giovanissimo, sei un classe 1983, quindi parlare con te è come parlare con un giovanissimo, quindi nonostante ciò hai un curriculum di tutto rispetto. E proprio per questo ti chiedo qual è la differenza dal passare a ruoli come Spillo, naturalmente eri molto bambino nella serie Amico Mio con il grande Massimo D'Apporto e poi nel film della grande Lina Bertmuller, io speriamo che me la cavo, ad un ruolo così particolare, così difficile come il Tommasino Cupiello dell'opera del grande Eduardo. Sì, allora ti ringrazio, sei giovanissimo, insomma mi dimentico, è sicuramente un giovane ma non proprio giovanissimo, insomma sono 37 anni, quindi insomma sono già papà di due bambini, una Margherita che ha 9 anni e Giovanni che ha 2 anni e mezzo, quindi insomma mi reputo già un adulto, però insomma ti ringrazio e me lo prendo volentieri il complimento. No, guarda sicuramente, allora c'è da dire una cosa, hai citato due ruoli insomma di cui ero molto molto giovane e bambino e quindi lì sicuramente c'era un approccio diverso che era dettato molto dall'istinto e dalla spontaneità e da quel talento che appunto tanto cerchiamo parlare, appunto sicuramente io ero un bambino molto talentuoso da quel punto di vista. Oggi invece sono riuscito ad affrontare questo personaggio che era ed è una grandissima responsabilità per un attore napoletano, insomma affrontare questo che è veramente uno dei totem del teatro e quindi in questo caso anche del cinema napoletano. Si sono riuscito probabilmente, l'ho fatto con un approccio diverso che è quello che mi sono costruito negli anni alimentando quel talento di quando ero bambino attraverso appunto lo studio, la ricerca e il continuare a crescere, a provare a crescere di giorno in giorno insomma. Io spero che ai napoletani ma a tutti gli italiani la mia interpretazione di questo personaggio sia piaciuta, io ci ho messo veramente tanto amore e spero che da napoletano e da persona che è cresciuta a pane Edoardo e spero insomma che questo innanzitutto sia arrivato e sia passato. Adriano noi naturalmente siamo un talk radiofonico, i tirapietra lo dice il titolo abbastanza sarcastici, ironici, pungenti, una domanda non cattiva perché non ci permetteremo mai ma ti devo per forza di cose chiedere quanto nel tuo interpretare questo personaggio molto difficile c'era comunque come Eco anche il fatto che da napoletano sei cresciuto credo naturalmente vedendo le opere di Edoardo De Filippo e quindi quanto c'era di Luca De Filippo che è uno degli interpreti principali di questo personaggio straordinario molto comico e molto anche sentimentale poi come Tommasino perché è un ragazzo di grandi e profondi sentimenti e si vede nel finale soprattutto dell'opera e anche magari io sono convinto che tu hai studiato anche Pietro De Vico che è stato un altro grande interprete del personaggio. Sì no guarda sicuramente da attore napoletano sono sempre uno di quelli che dice che per un attore napoletano il bagaglio culturale che noi abbiamo è qualcosa di imprescindibile quindi quando mi è stata data la possibilità di approcciare a questo personaggio l'ho fatto tenendo ben presente quello che erano stati i miei precedessori anche perché parliamo insomma di due interpretazioni straordinarie ma io ne ho vista anche un'altra fatta da Massimiliano Gallo in teatro in una versione con Carlo Giuffre anche lì meravigliosa. Io però quello che ho provato a fare è assolutamente non riguardarmi a quelle interpretazioni perché sono ero consapevole sono consapevole che quelle esistono in me nel mio sangue e circolano perché appunto fanno parte del mio DNA ma ho provato a metterci del mio ovviamente partendo da quelle cose che avevo già dentro e quindi sicuramente qualcuno ha potuto vedere e intravedere nel mio Tommasino qualcosa di Pietro De Vico qualcosa di Luca De Filippo però insomma quello che ho provato a fare è approcciare a questo personaggio come un personaggio scritto oggi da un qualsiasi drammaturgo o sceneggiature contemporaneo e quindi a provare a leggere questo ragazzo che appunto come dicevi tu dà la grande sensibilità dandoci, mettendoci insomma del mio ovviamente guidato da regista che è Edoardo De Angelis e accompagnato da un attore straordinario che è stato Sergio Castellitto Allora ciao innanzitutto volevo farti complimenti per la tua interpretazione che è stata sicuramente sarà stato forse il dialetto napoletano ma comunque quella che La lingua napoletana La lingua napoletana ma sicuramente è stata dal mio punto di vista quella più attinente alla commedia originale Ti volevo chiedere nei fuori onda o comunque nell'ambiente tra di voi chiaramente sarà venuto fuori il paragone o comunque il pensiero di Edoardo Volevo sapere se c'è stato ecco proprio nel fuori onda qualcosa tra di voi che è venuto fuori qualcosa di cui avete parlato anche con Castellitto per quanto riguarda Edoardo De Filippo Guarda ma è inevitabile che l'ombra di quel gigante che era Edoardo De Filippo ci ha accompagnato nel bene e nel male durante tutta la lavorazione dell'opera Però una delle volontà principali appunto del regista che ripeto insomma è quello che dà l'impronta a tutta l'operazione era quella di in qualche modo distaccarsi il più possibile da quell'operazione insomma da quello spettacolo che noi conosciamo benissimo Ma non distarcazzi perché bisognava fare qualcosa di diverso ma perché probabilmente la sua lettura come poi secondo me insomma abbiamo potuto avere modo di vedere era sicuramente una lettura di tipo diversa Adesso è ovvio che noi napoletani in particolar modo e tanti ovviamente non soltanto napoletani siamo legatissimi a quella operazione e a quello spettacolo meraviglioso che Edoardo ci ha riproposto ben due volte attraverso anche dei video che sono appunto la versione del 62 e quella del 77 Però è anche vero che bisogna secondo me fare attenzione a non ingambiare se così vogliamo dire per il troppo amore questo drammaturgo straordinario che è stato e continuerà a essere nei secoli e nei secoli Edoardo De Filippo Cioè a trattare Edoardo De Filippo oggi come un classico ovvero come Shakespeare, come Dostoievski, come Goldoni significa liberarlo anche dalle sue stesse interpretazioni Però posso farti un'annotazione dal mio punto di vista, nel momento in cui io parlo chiaramente della chiave registica, nel momento in cui tu all'85-90% ti attieni al testo madre, al testo originale è chiaro che da parte di chi osserva, di chi riflette, di chi si gode la messa in scena viene naturale riproporre mentalmente anche il sottotesto di Edoardo Ma sai, guarda, non sono d'accordo, ti spiego perché, perché anche i testi di Shakespeare No, però volevo, aspetta, volevo completare perché altrimenti rimane appeso un concetto Io dico, il momento in cui un grande autore come Edoardo scrive, lo fa anche in relazione ai suoni perché tu mi insegni che un'opera, una commedia è anche una sorta di spartito musicale Quindi come uno spartito musicale si associano i suoni anche agli interpreti, interpreti intendo i personaggi del lavoro Quindi quando poi si va oltre e non si rispetta totalmente quel testo, si va anche fuori spartito E per andare fuori spartito ne devi dare una chiave di lettura totalmente diversa Altrimenti poi la sovrapposizione è un esercizio naturale costante Guarda, ti ripeto, io sono d'accordo in parte in quello che dici, ti spiego Insomma ovviamente l'argomento sarebbe da trattare All'università, questo è ovvio Sì, all'università è in discussioni probabilmente che poi possono anche non interessare fin in fondo Però cercando di essere breve per quanto possa esserlo C'è da dire due cose Allora, che Shakespeare è recitato in tantissime lingue Così come Edoardo è recitato in tantissime lingue Questo già dovrebbe farci capire l'universalità di quello che è la parola E i temi che Edoardo porta avanti Al di là del suono che Edoardo ci ha dato C'è una differenza sostanziale Io ho avuto la fortuna di far parte anche di un'altra operazione molto importante su Edoardo Che è stata quella diretta da Mario Martone Sempre un adattamento cinematografico Il rione Sanità Mario Martone diceva una cosa interessantissima rispetto al paragone che tu facevi Degli spartiti della musica Diceva, noi dobbiamo pensare che questo copione che stiamo andando a leggere È uno spartito che solitamente è stato suonato come musica classica E noi oggi dobbiamo recitarlo, suonarlo come se fosse un rap Ecco, io credo che uno stesso spartito possa essere suonato con un arrangiamento diverso Quello che si sta provando a fare su Edoardo Siamo soltanto all'inizio e ti garantisco che da qui in poi si aprirà un mondo E questa sarà la vera nuova vita di Edoardo Drammaturgo È proprio questo Adesso qual è il problema rispetto a Shakespeare o rispetto a Goldoni o a tanti altri? Che noi qui, oltre ad avere il testo di Edoardo Abbiamo un grande macro testo Che sono tutte le interpretazioni Sia dal vivo Sia video Che Edoardo ci ha lasciato E quindi noi non siamo mai veramente liberi di analizzare quel testo come un testo di Shakespeare No, su questo sono d'accordo Pensa che ho scritto un articolo su un'opera di Edoardo Che poi è Filomena Marturano ambientata a Cuba Quindi pensa un po' quanto io sia aperto a questo Però al di là No, perché cosa succede? E concludo Cosa succede? Che se noi pensiamo ai grandi classici No, faccio vedere Amoleto o Otello come Luca Cupiello Che cosa ci dice il classico? Che quello è un uomo che durante quest'opera Compie dei gesti per arrivare a quel risultato E la grande opera ci mostra questo Adesso il percorso E i modi in cui attraverso questa roba Attraverso quest'opera Questa rivisitazione che noi facciamo Questa cosa possa avvenire Sono infiniti E noi non abbiamo neanche avuto la possibilità di iniziare a scoprirli Perché fino ad oggi c'è stato ovviamente Anche giustamente da parte insomma della famiglia di Filippo Cercare di tutelare quell'opera originaria Che era e che continua a essere quella di Edoardo Proprio Carlo Giuffri che ottenne prima degli altri Mi sembra la possibilità Il diritto di mettere in scena le sue opere Adriano ma tu che sei tifoso del Napoli credo Spero Ma ti piace questo Napoli? Ma ti piace questo Napoli? Guarda io sono tra quelli che dice Che bisogna aspettare ancora Non sono assolutamente Ovviamente quello che sto vedendo non può piacermi Ma non può piacere a nessuno Però diciamo anche che io sono un romantico In questo momento storico che viviamo Sia appunto dal punto di vista proprio mondiale Quindi della pandemia e tutto quello che stiamo vivendo E anche proprio dal punto di vista sociale e umano Nel senso che questo calcio moderno Che ci sta sempre allontanando di più Avere un allenatore come Gattuso Che ovviamente è sicuramente un esempio È qualcosa che secondo me a prescindere da tutto Va tutelato E quindi io dico abbiamo avuto tanti Napoli Non bellissimi Teniamoci ancora stretto per un po' questo E vediamo a cosa ci porta Anche perché tutto sommato I risultati non sono così lontani dagli obiettivi stagionali Quindi voglio dire È vero che il gioco non ci sta convincendo Però siamo comunque in corsa in Europa League Siamo lì per il quarto posto In Coppa Italia siamo andati avanti Diamo il tempo al tempo E c'è anche una supercoppa italiana da conquistare Adriano per concludere Quanto c'è di metodo Stanislavski In quelle scoppolone che ti dà Sergio Castellitto Quelle sono tutte vere Gli Stanislavski non c'è proprio entrato Perché era talmente forte Che il dolore era reale Non ho dovuto proprio ricordare Nessun tipo di emozione vicina a quella Io parlavo di lui Non parlavo di te in ricezione Di lui nel battere Lui le battiva proprio bene Però anche da questo punto di vista Per esempio Credo che rispetto a quello che siamo soliti vedere Nel rapporto padre figlio Di questo spettacolo Di questo meraviglioso capolavoro Che è Natale in casa Cupiello Noi abbiamo provato a dargli anche delle sfumature diverse Che il cinema in questo ce l'ha permesso Dal punto di vista proprio fisico Tattile È un rapporto fatto anche proprio di Di contatto Adriano io purtroppo per motivi radiofonici Devo salutarti Però prima di andare No aspetta Aspetta dove vai Prima di andare in pubblicità Non posso non chiederti Un ricordo velocissimo In 15 secondi Di Io speriamo che me la cavo E di Paolo Villaggio Guarda Io speriamo che me la cavo È stato per me Qualcosa che va al di là di un film È un evento che mi ha segnato la vita Io se oggi sono un attore Sono anche l'uomo che sono Lo devo a quel film Quindi puoi immaginare Quanto io sono legato Vi dico una cosa Insomma in anteprima Che l'anno prossimo Ci saranno i trentennali Il film è stato girato A cavallo tra il 91 Ed è poi uscito il 92 A cavallo tra il 92 Per il trentennale Ho messo su insieme a un regista Che si chiama Giuseppe Marco Albano Un documentario Che si chiama Noi ce la siamo cavata Per cui io vado in giro per l'Italia A rimettere insieme Tutti quei bambini Che erano della terza Oh che meraviglia Facendo di raccontare appunto In questi trent'anni Che cosa sono diventati Ed è anche un'occasione Per celebrare appunto Quel film E la regista meravigliosa Che è Elina Berti Muller Qual è la battuta Che ti ricordi al volo E che ti va di ridire Adesso che hai Decidi se c'è un bambino Grande Grazie ad Adriano Grazie a voi